Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon dall'amico Dario Bagatin che mi chiede di parlare del film del 2022 di Dan Tracenbauer, Prey, Prey che doveva uscire al cinema, doveva essere un'altra parte della saga dei Predator, è uscito direttamente purtroppo per le piattaforme, però devo dire la verità, nonostante sia stato criticato da mezzo mondo e soprattutto dal pubblico definendo una cagata, per me invece è un film divertentissimo, dove sì se la sceneggiatura ogni tanto traballa, però non traballa mai l'azione, non traballa la messa in scena, e non traballa l'idea nei primi del 1700, 1719 mi pare sulle pianure dove stanno i Comanci arriva praticamente un Predator a deflagrare tutto, la nostra protagonista è Naro, una donna Comanci che vorrebbero tutti che non facesse la guerriera, lei invece vuole fare la guerriera e si rende conto che appunto c'è questo alieno, quello che lei crede sia essere un dio o quello che è, che sta ammazzando tutto quello che cammina e in più c'è da vedersela con i coloni e anche con il maschilismo appunto della sua tribù. Però lei vuole cercare a tutti i costi di proteggerla e di dire la storia, è tutta qui. Grandissimo film in alcuni punti, ci sono le scene d'azione, sono fantastiche, il regista è il regista di Tanklover Fried Lane e si vede, riesce a creare l'attenzione alla stragrande, riesce a spiegarci tante cose del Predator che avevamo già intuito degli altri film, ma senza mai perdere di vista il fatto che pur essendo una specie di remake ambientato appunto nel 1700, il nostro Predator quindi ha delineamenti diversi, delle armi sono più spartane, tutto è chiaramente indietro di 300 anni anche il nostro Predator, seppur chiaramente avanti di mille anni su quello che sono gli indiani, gli indiani, gli nativi americani. Ma resta il fatto che il film riesce proprio a colpire, a colpire a livello sociale e politico perché riesce a descrivere praticamente una popolazione che verrà sterminata da un gruppo di pezzi di merda come vediamo qui, tra l'altro i viaggiatori francesi sono terrificanti. E poi è un film in cui si riesce a creare un personaggio femminile forte, interessante, intelligente e ormai in un mondo macista come questo, se c'è un film con una donna protagonista fa flop siamo appunto a capo, ma in realtà tutti stanno a dire è troppo piccolo, è troppo per combattere il Predator, ma il Predator anche Schwarzenegger che era due metri non lo combatte con la forza, lo comparte in realtà con l'intelligenza della guerra. E qui fa lo stesso, con l'intelligenza la nostra riesce a capire che cosa gli serve per colpire appunto il Predator e per non farsi vedere e tante altre cose che non vi voglio spiegare perché è ganzissimo anche come si rilega la pistola al numero due. È un film che sicuramente non è un capolavoro ma è un film di intrattenimento che avvenne, il Predator è tutto analogico e questo già mi fa sta bene, gli effetti computerizzati praticamente sono limitatissimi. In più il sangue scorre a fiumi senza dimenticare che qui anche i protagonisti, le persone che sembrano tanto buone e potrebbero salvare l'universo muoiono in dieci secondi e poi è un film che traccia una linea proprio interessantissima fra questo Predator e tutti gli altri che verranno perché da qui partiranno tante impressioni che poi degli altri Predatori invece avrebbero messo nei dubbi della sceneggiatura. Quindi questo film serve a coprire alcuni buchi di sceneggiatura degli altri Predator e ne crea degli altri che verranno forse coperti con un altro film, almeno lo spero perché secondo me questo Predator è divertentissimo. È niente da dire, film di intrattenimento puro, fatto benissimo e gli effetti speciali sono a dir poco straordinari, proprio perfetti nel loro uso e nel loro essere utilizzati anche come mezzi cinematografici. La narrazione scorre che è una bellezza, il ritmo è fenomenale e il film pur avendo appunto i suoi difetti non essendo minimamente un capolavoro però è veramente un film buono, un bel di film, ci si diverte, la gente cazzo ormai butta giù certa merda tipo Black Adam e poi arrompe coglioni per tre stronzate di sceneggiatura qui. La bellezza di questo film è appunto la crescita della nostra che è una crescita spirituale e fisica e che la porterà a essere una persona migliore, una guerriera migliore e soprattutto una nativa americana migliore, ancora più vicina al suo popolo, ancora più vicina al suo spirito. Non c'è shooterismo di mezzo, questo regista si capisce che sa fare alla grande il suo mestiere e che ha anche più di mestiere e ha un grande talento perché nel film recupera tre, quattro sequenze che sono a dir poco magistrali. Quindi se come me amate alla follia i Predator, secondo me questo pre l'avete scoppiato e riscoppiato, speriamo che sia già uscita, se è già uscito me lo piglio anch'io, metto il link qua sotto di Amazon, aiutatemi appunto su Amazon comprando il link qua sotto, se comprate da sotto qua, qualsiasi cosa entrando anche da un film per andare a comprare la lavatrice, mi daranno una piccola percentuale, naturalmente a voi non aumenterà niente. In più donate su Patreon, vi piace, iscrivetevi al canale, guardatemi su Facebook, Instagram e soprattutto insomma puppate questo pre, secondo me è di molto divertente, non quanta azione, horror di quelli che comunque avvenne a uno al giorno. Una volta tanto si trova appunto il modo di raccontare un film d'azione dove l'azione è creata anche dalla testa, per me è veramente un film da non perdere nonostante sia difettosissimo ma soggettivamente l'ho amato e parecchio. Quindi il link è qua sotto, donate su Patreon, ripeto, fate tutto il cazzo che volete e se il film è uscito un'altra volta vi dico acquistatelo o datelo in occasione guardandolo on demand. Fate un po' poi, per me è un film da non perdere nonostante non sia un film completamente riuscito.